Arriva la svolta per quanto riguarda la morte di Diego Armando Maradona. Infatti dall'Argentina arriva la notizia che il giudice Orlando Diaz ha rinviato a giudizio otto persone che andranno a processo per rispondere dell'accusa di omicidio colposo. Si tratta di medici e sanitari che, secondo la Camera d'Appello e Garanzie di San Isidro, avrebbero svolto un lavoro carente nel momento in cui il campione argentino si trovava sotto le loro cure. Secondo i medi argentini, il giudice Orlando Diaz ha colto quanto richiesto dai pubblici ministeri nel 2022 e quindi otto persone rinviate a giudizio, tra cui il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Kosakov, lo psicologo Carlo Diaz, il coordinatore emerico Nancy Forlini, Mariano Perroni, Ricciardo Almiron, Diana Madrid e Pedro Pablo di Spagna. L'accusa è di omicidio colposo. Ci si chiede quindi al momento a cosa rischiano. Gli imputati infatti potrebbero passare dagli 8 ai 25 anni di reclusione. Secondo l'autopsia, ad uccidere il campione argentino era stato un edema polmonare acuto secondario a un'insufficienza cardiaca cronica esacerbata. Inoltre la stella del Napoli soffriva di cardiomiopatia dilatativa. Insomma, non concludono le polemiche in merito al decesso di Diego Armando Maradona, il quale fa sempre parlare di sé in campo, fuori e anche quando ormai non c'è più.